Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. E poi c'è la faida 5 Stelle interna, Di Maio contro Conte. Cosa dice il comunicato Elena? Allora eccomi Luca, purtroppo c'è stata una piccola interferenza con il ritorno audio. Comunque sì, è arrivata la nota del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo spostati qui a Palazzo Cenci perché le forze di maggioranza arriveranno qui per trovare una quadra alla risoluzione che verrà presentata domani in Parlamento. Di fatto nella nota si parla, si rinnega il fatto che la Russia abbia invaso l'Ucraina. Però il nodo centrale è questo, che bisogna ritenere necessario dopo quasi tre mesi di conflitto nel cuore dell'Europa che adesso invece di inviare armi si abbia una pesantezza maggiore sulla diplomazia. Quindi si percorra una strada diplomatica e di fatto si riveda l'invio di armi in Ucraina. A dire la verità non ho avuto modo perché la nota è effettivamente molto lunga, costa di vari punti, quindi è molto lunga. Quindi non ho avuto modo di leggerla in maniera approfondita, però questo è quello che si carpisce per adesso. Grazie Elena perché volevo girare, perché tu giustamente hai aperto dicendo che le prime righe del comunicato stampa chiariscono un punto, cioè dicono che il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle all'unanimità conferma la risoluta condanna dell'aggressione militare condotta dalla Russia contro l'Ucraina. Poi però si apre il capitolo Luigi Di Maio, Di Maio la smetta con esternazioni lesive del Movimento. E questo racconta bene i due fronti su cui si trova a dover interagire il Movimento 5 Stelle in queste ore. Quello interno alla maggioranza, quello interno alla sua forza politica. Ti introduco però un'altra variabile. E se il problema più grande dell'estate di Mario Draghi non lo rappresentasse il Movimento 5 Stelle, ma Matteo Salvini? Allora, con ordine, chiariamo questa nota. Questa nota rientra nella categoria di acqua fresca. Nel senso che rispetto alle premesse, diciamo, sui due punti fondamentali, le armi e il tema Di Maio è assolutamente più morbida, cioè il punto sindacale. C'è scritto che loro ritengono superata la cornice del cosiddetto decreto ucraina, però non chiedono un moto, quello è il punto, in Parlamento per stabilire il nuovo e mio delle armi. E questa formulazione del comunicato consente un ampio gioco politico nella stesura del passaggio di domani. Insomma, abbiamo svaricato anche domani. Dice questo, vado a citare, di ritenere necessario, dice il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle, dopo quasi tre mesi di conflitto, un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo del Parlamento che possa contribuire a rafforzare, il periodo è molto lungo, quando si dicono cose varie spesso si fanno frasi molto lunghe, contribuire a rafforzare l'azione politica del governo in tutti i consensi internazionali e perseguire un indirizzo ampiamente condiviso dal governo e del Parlamento. Ma questo vuol dire che vogliono rivotare, che stanno chiedendo di rivotare? Perché questo voto il Parlamento già l'ha fatto, a marzo. Allora, la formulazione è uno sfolgorante esempio, diciamo, di linguaggio borbonico, che è quel linguaggio tipico, diciamo, dell'avvocato o a secca carbugli del popolo. Un confronto in Parlamento non si è mai negato a nessuno in Italia. E questa è la richiesta in un comunicato. Poi, quando vanno a parlare con Amendole nella risoluzione, magari ci si accontenta del confronto, senza poi vincolarlo all'antito di indirizzo, che mi pare assolutamente quella richiesta irricevibile per Draghi. Insomma, si è partiti con un no alle armi, ok? Si è proprio un no secco. E sfumatura fino a domani vedrete che si troverà un punto di caduta. Sulla parte di Di Maio è acqua fresca pure là, perché si è partiti col fatto che bisognava espellere Di Maio, poi si è passati al fatto che bisognava politicamente sfiduciarlo, cioè scrivere non parla a nome del movimento, e si è finito con un si confida che Di Maio, diciamo, non continui con questi attacchi che sono lesivi dell'immagine. Quindi il massimo è stato, si confida che Di Maio, si auspica. Voi capite, diciamo, che siamo perfettamente con la retromarcia ingarrata. E vi hai chiesto di Salvini pure? Sì, in una battuta rapida, perché poi dopo dobbiamo aggiungere altri auspiti. Non vorrà che Salvini non voglia perdere, diciamo, il privilegio del papete, che alla fine è roba sua, le crisi agostane sono cosa sua. No, no, guarda, ci ha già dato appuntamento a settembre, sembra come la rivoluzione di Gabber, oggi no, domani forse, dopodomani sicuramente. Ha detto che fino al 18 settembre non succede niente. E là dipende molto il livello, diciamo così, il governo non cadrà. Il tasso di fibrillazioni del centro-destra dipenderà anche dall'esito del ballottaggio delle amministrative di domenica. Già il primo turno ha avuto un effetto che ha prodotto, diciamo, un poco di movimento, perché Salvini è stato superiore alla Melonia al nord, ha perso l'egemonia. Vediamo che succede a Verona, dove stanno facendo di tutto per perdere, diciamo, e nelle altre città del nord. E da quello dipenderà quanto il giorno dopo saranno animati anche dall'ansia di recupero in modo da fare una lunga campagna elettorale sulla pelle del governo. E se la crisi sarà da abbronzati o meno. Grazie ad Alessandro De Angelis per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro e alla prossima. Ci ha raggiunto.